Il centro Pegaso sarà acquistato dall'Asle, attesa per i fondi del governo, per Palazzina dell'ospedale e distretto di San Paolo. Alla misericordia di Migliana arrivano il servizio CUP per prenotare esami medici e lo sportello Alia. La Dioce si lancia la sfida a leggere ogni giorno un capitolo della Bibbia. Si comincia con il Vangelo di Luca. Buon pomeriggio dal telegiornale di TV Prato. Apriamo parlando di sanità perché terminata l'emergenza Covid, il centro Pegaso sarà acquistato dall'Asle. Sarà un ospedale di comunità con funzioni specialistiche e ambulatoriali. Novità anche per i fondi del governo, utili per la realizzazione della Palazzina del nuovo ospedale e il distretto di San Paolo. Una volta terminata la fase di emergenza, il centro Pegaso allestito in una parte dei locali ex-CREAF sarà affidato all'Asle e destinato definitivamente a fini sanitari. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Asle Toscana Centro, Paolo Morello Marchese. La struttura fungerà da centro vaccinale, ospedale di comunità con la possibilità di ricovero, attività specialistiche e ambulatoriale. Il destino è sicuramente sanitario, noi procederemo una volta finita l'emergenza perché attualmente è ancora incardinato nel sistema dell'emergenza e quindi della protezione civile. Lo acquisiamo proprio come Asle e a quel punto verrà utilizzato per le caratteristiche che ha, quindi ricovero, ospedale di comunità, attività specialistica, rapporto con i medici e medicina generale. Quindi sarà un supporto ancora più potente e non solo per il territorio di Prato che già c'ha a Narnali, c'ha anche nel vecchio ospedale Letti di cure intermedie, ma anche per l'area fiorentina, per il resto anche della Asle. Resta in stand by per ora l'hub vaccinale del Pellegrinaio chiuso il 31 ottobre. La struttura non è stata dismessa e l'occorrenza potrebbe essere riaperta e tornare alla funzione che ha svolto nei mesi scorsi. Entro la fine di novembre potrebbero arrivare novità anche sul fronte finanziamenti per la nuova palazzina dell'ospedale e il distretto sanitario di San Paolo, legate all'ex articolo 20, che regola la programmazione e la progettazione di interventi in ambito di edilizie e tecnologie sanitarie. Tra i fondi che la legge dovrebbe sbloccare ci sono infatti anche i finanziamenti legati alle due opere per il nostro territorio. Per il distretto sanitario si parla di 4 milioni e 800 mila euro, per la palazzina del Santo Stefano sono 9 milioni che la legge 20 deve sbloccare. Noi siamo in attesa, siamo in attesa affinché si sblocchino i fondi che già ci sono per quanto riguarda questo ex articolo 20. È una procedura che deve fare il governo, per cui noi abbiamo sensibilizzato già da tempo, anche attraverso la ragione, ma anche direttamente, il governo affinché questi interventi nei quali c'è anche, oltre al distretto di San Paolo, anche la palazzina dell'ospedale, è attualmente sotto il discorso dell'ex articolo 20, di poter sbloccare questi fondi. Ci viene detto, lo dico, lo riporto perché così ci viene detto, che entro la fine di novembre questi fondi dovrebbero essere sblocati. 16 nuovi contagi e nessun decesso. Il dato di Prato e Provincia, secondo il bollettino Covid, è messo dalla regione toscana nella giornata di oggi. Rispetto a quanto riportato ieri, 35 nuovi positivi, si registra un calo nel numero dei contagi. A livello regionale, nuovi casi sono 431, mentre i decessi sono tre, un uomo e due donne, con un'età media di 84,7 anni. Passiamo alla cronaca, perché il Tribunale di Prato ha condannato due uomini di 45 e 47 anni per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza e di un ragazzo aggrediti nel parcheggio di un pub in Viale della Repubblica la notte del 6 marzo 2018. Il 45enne ha avuto una condanna di 6 anni e due mesi, l'altro di 6 anni. Un terzo complice aveva già patteggiato in udienza preliminare un anno e 11 mesi. All'epoca dei fatti, i tre vennero arrestati dalla polizia, le vittime furono conosciute dentro il locale. L'approccio proseguì all'esterno, dove maturò la violenza del terzetto verso la ragazza e il ragazzo. Per il 45enne la condanna è più alta, perché contro di lui grava anche l'accusa di lesioni, avendo colpito con uno schiaffo un'amica che era intervenuta più volte per difendere il ragazzo e la ragazza. Cambiamo argomento, ci spostiamo in ambito di Oscesano. Ieri sera nella chiesa della Sacra Famiglia, primo incontro in presenza per la pastorale giovanile. Oltre un centinaio di ragazzi e ragazze hanno pregato e riflettuto con il vescovo Giovanni Nerbini. Trovarsi insieme per conoscersi e imparare a riconoscere la presenza di Dio nella propria vita. È questo lo spirito di Giovanni Insieme, progetto della pastorale giovanile, rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 30 anni. Sicuramente la pandemia ci ha fatto riflettere molto sull'importanza delle relazioni. E Giovanni Insieme ha appunto questo intento di voler mettere i ragazzi in piccoli gruppi per avere una condivisione sulla parola di Dio. Proprio perché la parola di Dio noi ben sappiamo che è quella che ci unisce, fa fraternità, ci rende appunto un unico, un'unica famiglia. Si respira una bella atmosfera perché penso che comunque quando ci si ritrova tutti insieme il bello è quello, no? Io ho visto ora per poco i ragazzi fuori, però comunque sia li vedo molto felici di ritrovarsi tutti insieme. È la prima volta dall'inizio della pandemia che i giovani delle parrocchie di Prato possono tornare ad incontrarsi in presenza. Questa serata mi aspetto tante novità perché è da tanto che non ritorna questa pastorale giovanile così attiva come un tempo almeno per me, quindi ecco una grande novità, tanta gioia, tanta felicità di riconcontrare tante persone dopo quest'anno e mezzo di Covid, di lontananza. La prima serata ha visto come punto di partenza il brano del Vangelo di Luca che racconta l'episodio dell'Annunciazione. Il Vescovo Giovanni Nerbini ha sottolineato come l'esperienza di Maria non sia lontana da noi nel tempo e nello spazio, ma riguardi ognuno di noi nella propria vita. Il Signore entra nella vita di ciascuno di noi, si prende carico delle nostre debolezze, delle nostre fragilità, ma le riempie della sua presenza e poi ecco ci chiama a questa missione che noi dobbiamo necessariamente svolgere nel mondo. Ecco tutti, nonostante la nostra piccolezza, la nostra fragilità, ci dobbiamo sentire coinvolti da questo progetto. Giovanni Insieme non finisce qui. Sono già in calendario degli esercizi spirituali rivolti ai ragazzi, con percorsi diversi in base all'età. Le date proposte sono il 12 dicembre e il 27 marzo, entrambi di domenica. Rimaniamo in argomento perché la Diocesi di Prato lancia una nuova iniziativa, leggere ogni giorno un capitolo della Bibbia. La proposta è rivolta a tutti e avrà inizio la prima domenica ad avvento, secondo un calendario prestabilito. Vediamo di che cosa si tratta in questo servizio. Carissimi, vorremmo presentarvi oggi una nuova iniziativa che avrà inizio con la prima domenica di avvento nella nostra Diocesi ed è la lettura quotidiana della Bibbia iniziando dai Vangeli. È più di un invito, è una sfida che la Chiesa di Prato lancia a tutti. leggere ogni giorno un brano delle Sacre Scritture. Si comincia con il capitolo 1 del Vangelo di Luca e poi, secondo un calendario prestabilito, il 16 settembre del prossimo anno, prendendo in mano il 22esimo capitolo dell'Apocalisse, chi partecipa avrà così letto tutto il Nuovo Testamento. L'impegno richiesto è dunque quello di dedicare alcuni minuti al giorno per leggere quotidianamente un capitolo del Nuovo Testamento, secondo un calendario scaricabile dal sito web della Diocesi, dove si trovano anche schede di riflessione e materiale utile per partecipare all'iniziativa. Consigli praticissimi. Primo consiglio, procuratevi una Bibbia personale. Tenete sempre a portata di mano un quadernino e una penna per segnare quello che emerge, quello che vi sembra importante annotare per voi. A conclusione di ogni capitolo sono previsti degli incontri di riflessione in presenza, pensati per dar modo ai partecipanti di conoscersi e incontrarsi. Vi sembrerà difficile, ma più sapremo avere fiducia e pazienza, più scopriremo quanto questo impegno è semplice e gustoso e potremo assaporare i doni che ce ne verranno e i frutti che lo Spirito Santo saprà produrre nella nostra vita. Riprendiamo ancora con la cronaca. Ha arrestato un italiano di 38 anni ritenuto responsabile di numerosi furti su auto in sosta commessi alcuni giorni fa vicino ai cimiteri durante le visite ai defunti. Le telecamere di sorveglianza e altri accertamenti hanno permesso ai carabinieri di Iolo di raccogliere una serie di elementi che hanno portato la Procura ad emettere un ordine di carcerazione nei confronti del 38enne. L'uomo ora è nel carcere di Prato a disposizione della magistratura. E adesso andiamo a Migliana in Val Bisenzio perché la sezione locale della Misericordia ha lanciato nuovi servizi. Nella sede della Confraternita sono stati attivati il servizio CUP dell'ASL e uno sportello in collaborazione con Alia. Il servizio è di Arianna di Rubba. La Misericordia di Migliana è sempre più vicina ai cittadini. La locale sezione dell'Arci Confraternita che il prossimo 10 dicembre festeggerà 111 anni di attività ha infatti attivato nei suoi locali due nuovi e preziosi servizi a supporto della collettività. Il primo è un punto CUP ASL che va ad affiancarsi al servizio CUP Misericordie e che consentirà così ai cittadini di prenotare direttamente nei locali della Confraternita di via di Migliana non solo visite mediche private, esami diagnostici e prestazioni professionali a prezzi accessibili tramite appunto il CUP Misericordie ma anche visite ed esami convenzionati con il sistema sanitario della Toscana. Il secondo è un punto di ritiro dei sacchi per la raccolta domiciliare dei rifiuti. Grazie infatti ad un accordo con Alia i cittadini potranno prendere i sacchetti direttamente alla Misericordia senza doversi necessariamente spostare fuori dal paese. La pandemia ci ha insegnato che bisogna riportare all'interno del paese i servizi e quindi la Misericordia di Migliana si è fatta carico di questo e ha cercato in questo periodo di pandemia di attivarsi, di attivarsi con Alia di attivarsi con il CUP ASL e riuscire a portare i servizi all'interno del paese. La Misericordia in questo senso è sempre stata vicina e sensibile ai bisogni della popolazione. Questo è proprio nella nostra filosofia. Questi nuovi servizi sono attivi da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e sono gestiti da personale formato. Tra gli altri servizi offerti dalla Misericordia di Migliana che conta ad oggi 180 soci alcuni dei quali volontari attivi una decina di artisti e due ragazzi del servizio civile un ambulatorio per i medici di famiglia e operatori formati per l'utilizzo del defibrillatore presente all'interno dei locali della confraternita e poi ancora l'attività di trasporto per chi ha difficoltà motori grazie all'ausilio di un nuovo automezzo recentemente donato dalla sede centrale di Prato. Misericordia è cresciuta siamo una piccola realtà però i dati ci danno ragione perché negli ultimi anni siamo passati da 80 soci a 180 soci quindi c'è stata anche una risposta all'interno del paese che ci dà fiducia. L'informazione torna stasera alle 20.30 con il Tg della Sera nel frattempo tutti gli aggiornamenti li potete trovare in tempo reale sul nostro sito tvprato.it Vi ricordiamo anche che oggi alle ore 18 dalla chiesa di San Domenico vi trasmetteremo in diretta l'inizio del cammino verso la beatificazione di Amata Cerretelli con la costituzione del Tribunale diocesano nominato dal Vescovo Giovanni Nerbini a seguire ci sarà la celebrazione della messa prefestiva e allora non mi resta che darvi appuntamento con i programmi di TV Prato ci vediamo questa sera con il Tg delle 20.30 arrivederci